La piastra piccola 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 Le piastra piccola La piastra piccola La piastra piccola Il piastra piccola Allora Tino Vi ho reso conto di questa durissima giornata Durissima tra le violette Prima, lui ha fatto la passeggiata che mi ha stroncato sono arrivato caracollando sulla bici ci sono le immagini sono arrivato caracollando perché si risparmia per fare i tratti allora hai reso il conto della giornata o i petegoletti? i petegoletti mettiamo su 1,2 mila allora facciamo ci abbiamo il meritatissimo caffè da Marabelli e la chiudiamo qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti